Buonasera, siamo con Luca Barbarossa, benvenuto a Samo Luca. Grazie di avermi accolto con tanta ospitalità e simpatia, comitato giovane, atmosfera molto carina e io vengo spesso in Calabria e ci vengo sempre con piacere. Bene, noi ti abbiamo voluto con tanta energia in questo paese perché averti qui per noi è veramente una grande emozione. Vuoi approfittare per salutare i nostri visitatori di tuttosamo.it? Beh, è un bel sito, io l'ho visitato e devo dire che è molto articolato, avete fatto bene a farlo perché oggi è un bel modo di comunicare, quindi saluto tutti quelli che ci vengono a trovare sul sito di tuttosamo.it. Ok, ti ringrazio, fai un bel concetto mi raccomando, Samo è con te. Brutti non l'ho mai fatti, quindi non ti deluderò per ciò. Sì, grazie.